L'ha lavorata bene fino a un certo punto sulla destra da Maramao, se ne rimpossessa il Cotton che con Nolano vada Matozzo, può allungare la falcata, Matozzo che calcia una deviazione la base del palo! Landino, quindi Tinazzi. Non manca nell'accompagnare anche da centrale difensivo le azioni dei suoi, Matozzo dalla distanza, ma Egizi oggi è davvero molto sicuro. Qui rischia due volte il centrale del Cotton in maglia numero 8, ma alla fine ne esce il vincitore riesce a dare a Nolano, saltato un uomo, ancora Matozzo Egizi in due tempi. Nolano in verticale, movimento lungo di Lefebvre, ben portato, poi il tacco da Matozzo! Grande azione del Cotton Club la palla che viene giocata ancora in verticale, ma c'è un anticipo imperioso dietro, allora Lefebvre dentro, filtrante, Matozzo, salta un uomo e fa 2 a 0 per il Cotton Club, ferale in due azioni si porta avanti di due reti la squadra dei campioni d'Italia. Nolano contrasta sul passaggio abbastanza telefonato dell'avversario e prova a spingere il contropiede, andando dentro da Forcina, lato corto, controlla, doppio passo, ancora fuori, Nolano, l'appoggio, Matozzo il sinistro fuori, incredibile! Matozzo? Rientra Matozzo! Gran conclusione, super parata di Egizi! Grazie a tutti!